Molto tempo fa, un'isola remota venne colonizzata dagli umani. Essi vi fondarono un regno. La popolazione cresceva, i raccolti fiorivano e la pace regnava sovrana sull'isola, mentre nuovi villaggi venivano fondati. Ma come ben sappiamo, non tutte le cose belle sono destinate a durare per sempre. Improvvisamente, il buio calò sopra il regno e dei meteoriti si abbatterono sulle due città più grandi, tra cui Capital City. Quello che successe fu inspiegabile. Le vittime dei meteoriti si trasformarono in zombie, che si nutrirono dei pochi sopravvissuti rimasti nelle grandi città, fino a renderle completamente prive di umani. Il destino del regno, ora, dipende solamente dai piccoli villaggi. Io sono Alex Worldboxer e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Vediamo subito che il primo villaggio a subire le violenze degli zombie è il villaggio di Vaina. L'esercito si difende come può, Dina invece ancora un attimo di tregua. Stesso discorso per Tyriod. Anche se gli zombie si avvicinano sempre di più ai confini, e anche a Dina gli scontri si fanno intensi. E nel frattempo è crollato anche il villaggio di Vaina. Il matazombi ora si dirige tutta verso Dina. Divampano incendi nella città. Anche gli abitanti di Dina purtroppo non ce la fanno a sopravvivere a questa invasione. Mentre a Tyriod sono cominciati i combattimenti, e sembrano già essere numerosi gli zombie. Umani che sono addirittura aiutati dalle scimmie che lanciano oggetti agli zombie. Città che sta provando a respingere come può l'invasione degli infetti. Popolazione di Tyriod, che purtroppo però è composta da tantissimi bambini che dunque non sono in grado di difendersi. L'esercito è rimasto poco e sta diminuendo sempre di più. Ma non bisogna scoraggiarsi perché ci sono anche le scimmie dalla parte appunto degli umani. E sono una grande arma. Intanto dal nord ovest arriva una grandissima orda di zombie. Devono cercare in tutti i modi di rallentare l'entrata in città degli zombie. Chissà se riusciranno. Il capo dell'esercito è sotto attacco. Divampato un incendio nella parte sud ovest della città c'è qualcuno che sta dando fuoco al bosco lanciando delle sottospecie di molotov rudimentali. Gli zombie che entrano ora anche da sud. Vediamo i combattimenti. Popolazione che sembra però fronteggiare questa invasione anzi escono addirittura dai confini per combattere personalmente contro gli zombie senza esito positivo però. Ora arriva una nuova armata zombie dal confine sud subito attaccata dagli arcieri. Si combatte anche nel bosco. Scimmie arcieri di nuovo insieme per fronteggiare questo attacco. Sono stati respinti. Ci sono ancora degli zombie però che aspettano fuori dal territorio a sud. Alcuni nelle ex città di Capitol City e pure a nord. Chissà se attaccheranno di nuovo. Per ora Tyrion però ha tempo di riprendersi. Invece dal bosco arrivano ancora degli zombie che sono subito però contrastati dagli arcieri. L'unione fa la forza infatti pian piano riescono a respingere tutte le ondate. Ora arrivano anche degli zombie da sud che però sembrano rimanere fuori dai confini. Anzi no. Eccoli che si spingono sempre di più all'interno della città. Sono due umani a combattere. Arrivano anche gli arcieri in soccorso ma è troppo tardi. Però riescono a sconfiggere questi ultimi invasori. Sembrerebbe esserci un attimo di tregua. A parte qualche combattimento ancora nel bosco fuori dai confini. Popolazione di Tyrion che però si sta riprendendo. E da una trentina di abitanti ora è arrivata a 44. In un mondo ormai devastato. Ogni abitante può fare la differenza. E infatti per il momento sembra che sta funzionando. Un abitante di Tyrion è uscito nei boschi. Nelle rovine delle vecchie città. È un altro. E non torneranno mai più in patria. E non sapranno mai che fine avranno fatto. Anche se sarà un po' scontato in realtà. Ed ecco una nuova battaglia contro gli zombie. Vediamo addirittura gli umani che escono a combattere corpo a corpo ma fanno una brutta fine. Gli umani non ce l'hanno fatta. Continuano però le scimmie e gli arcieri. Gli zombie entrano ufficialmente nel territorio di Tyrion. Vediamo i combattimenti a distanza tra arcieri e scimmie contro gli zombie. Che vengono e sembrerebbe respinti con successo. C'è ancora una piccola schiera fuori dai confini. Ma ci pensano gli arcieri. Anzi ora addirittura arriva l'esercito per respingerli con successo definitivo. Ma ora il problema rimane Capital City. O beh le rovine di Capital City che vedono ancora tantissimi zombie vagare per le strade del centro e anche l'insediamento a nord. Popolazione di Tyrion che si sta ufficialmente riprendendo. E ora siamo sui 66 abitanti. Periodo sembrerebbe abbastanza di tregua. Visto che non sono più state orde di zombie ad attaccare il villaggio. E per cercare di ridare vita a quest'impero viene fondato un villaggio a sud. Il villaggio di Mues. Questo è un grande modo per far riprendere l'umanità su quest'isola. Che sembrava spacciata invece pian piano sembrerebbe stia recuperando. Il villaggio di Mues anche in una posizione abbastanza strategica considerando che è protetto dal mare da quasi tutti i lati. Meno che da nord. Dove però è parzialmente protetta dall'ormai capitale Tyrion. Tanto ci sono ancora combattimenti a nord della capitale tra l'esercito e gli zombie. Il poco di esercito che era rimasto viene sconfitto ma ci sono ancora gli arcieri e due soldati di rinforzo che non sono abbastanza. Ci pensano gli arcieri e infatti anche quest'orda è stata respinta con successo. I boschi fuori città ricominciano i combattimenti con un'orda numerosa di zombie che sconfigge un gruppetto di umani che si stava affacciando troppo. Tornano i combattimenti anche a nord. Esce l'esercito abbastanza numeroso e sembrerebbe in grado di potercela fare ma vediamo i combattimenti come vanno. Esercito in netta superiorità numerica e sicuramente armato meglio degli zombie. Stanno subendo tante perdite. Esercito che invece sembrerebbe non star perdendo uomini e quindi questa verrà sicuramente ricordata come una grande battaglia è una grande vittoria anche se ci sono state comunque molte perdite ma ogni grande battaglia ha anche le sue perdite ed è giusto che sia così. Continuano ancora i combattimenti però nell'ex insediamento a nord con i membri dell'esercito che sembrano essere rimasti davvero in pochi ma arrivano continuamente rinforzi quindi l'esito non è scontato. Ecco qua un grande combattimento. Il capo dell'esercito che sembra non mollare. In effetti vediamo che è armato benissimo però senza il supporto del suo esercito è difficile che riesca a fare i miracoli. Viene attaccato ora da una decina di zombie e costretto a scappare in ritirata per riprendersi. Il capo dell'esercito che ora è circondato e perde la vita dunque viene sconfitto l'esercito che era uscito in missione con comunque qualche successo. Infatti ora l'insediamento a nord è stato quasi completamente liberato. Rimane però una grande orda a viaggiare nei boschi meno invece gli zombie rimasti a capital city ma sono comunque tanti e ci sono le scimmie della capitale che gli lanciano dei sassi. Intanto vediamo che la nuova città sta crescendo molto velocemente conta già 45 abitanti capitale tiro di invece addirittura 163 e continuano ancora le battaglie pochi gli zombie che entrano nel territorio e quindi sono facili da fronteggiare. L'esercito però conta molti più membri e quindi potrebbe essere pronto a fronteggiare quasi qualsiasi armata di zombie. E ora l'esercito si affaccia a capital city per affrontare la più grande orda di zombie rimasta ancora in circolazione. Umani che sono stufi di questa situazione e vogliono fare di tutto per liberarsi dagli zombie. Esercito che sta venendo assalito ma anche questo attacco sembrerebbe avere un esito negativo per l'esercito della capitale Tyriod. Arrivano però degli arcieri a dare supporto e a cercare di eliminare quei pochi zombie che sono rimasti. Sono in tanti gli umani e sembrerebbero starcela facendo grazie al fuoco di supporto dalla distanza. Per il momento gli zombie vengono respinti con successo ancora una volta. Un'altra mini orda di zombie però si sta avvicinando al villaggio di Mues e sono pochi gli umani a combatterli ed è stato fondato un nuovo insediamento, l'insediamento di Nadiovo a nord di capitale Tyriod. Viene attaccata un'orda di zombie fuori dalla città di Nadiovo. Corre l'esercito, numeroso, i combattimenti continuano, sembrerebbero essere gli umani in grande vantaggio. Infatti sconfiggono l'orda senza problemi e poi continuano verso nord. Sconfitta un'altra orda, ora a Nadiovo sembra non avere minacce nei dintorni. Zombie che sono rimasti principalmente a ovest, dove gli umani ancora non sono arrivati. Umani che si spingono ancora a Capitol City per liberare definitivamente le strade dai pochi zombie rimasti. Esercito che non ha problemi e c'è anche qualche coraggioso che si spinge più verso ovest senza però il supporto dell'esercito e questo potrebbe costargli caro. Infatti viene assalito da troppe unità. Vediamo una panoramica dell'impero dei sopravvissuti che con i nuovi tre insediamenti sta riconquistando, o meglio ha già riconquistato praticamente metà dell'isola. Manca l'ultima grande orda di zombie che sembrerebbe starsi avvicinando agli insediamenti. Chissà se l'esercito prenderà delle misure di prevenzione e uscirà ad attaccare questi zombie o si aspetteranno di essere attaccati. Comincia l'assalto degli zombie al villaggio di Mues. Umani e scimmie che resistono grazie al fuoco dalla distanza come hanno sempre fatto finora e provano ora ad addentrarsi nel territorio zombie per cercare di fare più vittime possibile e liberarsi da questa minaccia una volta per tutte. Diamo grandissimo esercito che se la prende con i singoli zombie senza alcuna pietà dopo tutto quello che hanno passato giustamente. Questa è una grandissima vittoria importante che riduce la minaccia zombie quasi a zero. Ancora qualche zombie rimasto nella zona ovest ma di per sé quello è quello che rimane. Esercito che si spinge a combattere contro altri zombie che però viene sconfitto e gli zombie ora hanno deciso di attaccare il villaggio di Nadiovo ma vengono anticipati subito dall'esercito dell'insediamento umano e infatti vediamo combattimenti nel bosco o meglio nelle rovine di capital city sconfitti senza problemi. Sano quindi sempre meno i non morti. C'è una marcia di persone che esce rischiando dai confini per andare a combattere. Viene fondato anche un villaggio sulla costa ovest e riprende alcuni edifici di capital city. Zombie che continuano a essere attaccati. Questo potrebbe essere l'ultimo zombie. No ce n'è ancora uno. Continuano gli attacchi umani che non mollano e riescono finalmente a uccidere l'ultimo dei tantissimi zombie che per anni li hanno perseguitati. Ora però è arrivato il momento di vedere come si svilupperà adesso l'impero. Torna a sorgere il sole dopo anni e anni di buio e con questa vittoria dunque gli umani si meritano una bella passata di luce divina che gli permetterà di guarire dall'infezione di modo che nessuno più si trasformerà e darà il via a nuove epidemie zombie. E dopo 30 anni dall'ultima battaglia la completa isola è stata ufficialmente riannessa all'impero. Villaggi che sono rimasti solamente i quattro ma che sono più grandi e forti che mai. E anche questo video è giunto al termine. Se siete arrivati fino a qua vi invito gentilmente a lasciare like eventualmente commentare ed iscrivervi se siete interessati a questo contenuto. Detto ciò io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.